Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo a Cintolese, manca dirlo, alle campane della mia diocesi più importante, dove abbiamo un concerto di quattro campane, che adesso ascolteremo per le nove il plenum di tutte e quattro le campane. Questa qui è la mezzana, quella è il campanone, qua c'è un'altra mezzana e là c'è la piccola. Sì, che c'è l'altro bel salto, tutti i salpi, solo un pensiero. E voi che hai finito con Giovanni? Ha fatto la quinta. No? Scusi, non mi siete piccati oggi, Giovanni. Voglio dire, ogni 32 e non ci farei un uomo. Grazie. 20 e 58 20 e 58, quindi tra due minuti dovrebbero partire. Battito dell'ora sul campanone, poi il plenum di tutte e quattro le campane. Spero che questo video vi sia piaciuto e a presto da Lorenzo Campanaro. Ciao. Qua un po' il retro della chiesa e anche lì altre finestre della chiesa. L'entrata del campanile è dentro... Eccolo! Sì, ma... Eccolo! Sì. eccole sì eccole 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 ecce Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.